Grazie a tutti. Sono contentissimi di poter essere qui e dare la parola. Noi abbiamo avuto modo di incontrarci, di pensare a svolgere il congresso in questa città proprio perché ci sono stati diversi eventi significativi che sono iniziati all'incirca alla metà dell'anno scolastico appena trascorso, quando è iniziato un pochino a emergere il fenomeno corsi gender a livello nazionale che poi è stato raccolto da alcune associazioni a livello locale che l'hanno cavalcato in maniera abbastanza forte, fino ad arrivare a un estremo compimento di questa opposizione, di questa fobia con l'approvazione della mozione del Consiglio Comunale qui ad Arezzo, proprio che si oppone in maniera categorica a qualunque forma di diffusione e promozione dell'ideologia gender, ma anzi si ripropone addirittura di andare ad intervenire nelle scuole e contrastare la diffusione di qualunque materiale legato alla promozione e all'ideologia gender. che insomma di cui abbiamo già ampiamente parlato e insomma non c'è bisogno che io torni su questi temi che sono tecnici e quindi cercherò di tenermi un pochino su quello che è il piano istituzionale ma anche politico perché no. Quindi ecco, la valenza della vostra presenza qui in questo evento in particolare è importantissimo, fondamentale e vuole anche essere un segnale, Arezzo non è una città omofoba, la provincia di Arezzo non è una provincia omofoba, vedo qui anche rappresentanti di l'assessore Elena Michele di Fogliano, quindi rappresenta la valuta della Val di Giana, ci siamo già confrontati e questo è sicuramente un momento anche di stimolo per tutti gli altri comuni della provincia per aderire e incardinare delle iniziative, quindi aderire alla rete Redi che è stata recentemente abbandonata proprio dal comune Capoluogo e iniziare a incardinare delle iniziative anche in l'assessore della regione toscana proprio per la sensibilizzazione delle scuole in particolare, insomma la provincia dello specifico ha competenze per quello che riguarda anche la scuola e qui come ho già detto anche in altre occasioni, dal momento in cui ci faranno le risorse sarà la nostra cura a ricominciare i percorsi nelle scuole, per quanto ci sono stati fatti gli anni scorsi perché nonostante poche destemporanee opposizioni abbiamo avuto davvero un ottimo riscontro sia per quello che riguarda gli insegnanti, per quello che riguarda i genitori e i ragazzi stessi. Si è parlato anche della senatrice Fedeli e del suo percorso e di come viene contestata sistematicamente, insomma anche qui in questa sala dove noi siamo oggi è avvenuto un fatto di questo tipo. Abbiamo parlato di quelli che sono gli elementi contestati all'interno della riforma della proposta di legge della buona scuola con la senatrice Fedeli e proprio lì in quegli spalti in fila avevamo una serie di persone che aderenti a vari tipi di associazioni hanno pesantemente contestato quelle poche righe, fondamentalmente quelle poche righe che sono all'interno della riforma della proposta di legge della buona scuola che possono essere tutte, possono non essere niente fondamentalmente perché poi sono poche parole molto generali e in realtà di grande valore perché si parla di evitare al rispetto delle differenze di genere. Quindi ecco la provincia di Arezzo è già appunto prima che ci fosse una legislazione adotta sia a livello regionale che nazionale, ha sempre lavorato per quello che riguarda l'abbattimento degli stereotipi di genere, molto attiva nel settore delle varie opportunità e in particolare possiamo ricordare anche delle iniziative relative alla lotta al bullismo e all'emofobia in come appunto è quello che rientra nell'abbattimento delle discriminazioni degli stereotipi. omofobia a me piace più parlare di omonegatività nel senso che veramente si tende a connotare in maniera negativa l'essere omosessuale, quindi in alcuni settori si può parlare di omofobia ma sicuramente anche nel mondo della scuola si può parlare di omonegatività, si conota in maniera negativa l'essere omosessuale o l'avere dei comportamenti che possono essere ricondotti all'omosessualità. Quindi intervenire nelle scuole è sicuramente qualcosa di fondamentale, lui si interviene non solamente nelle scuole superiori ma addirittura nelle scuole dell'infanzia, al nido, in scuole di ogni ordine grado e di ogni tipo perché sono anche istituti cattolici che hanno aderito ai nostri corsi. Vorrei ricordare che ci sono anche delle associazioni di omonegatività legate alla sfera cattolica che sono sicuramente più aperte, sempre qui in questa sala abbiamo ascoltato un incontro dell'Associazione Italiana dei Maestri Cattolici che hanno mostrato sicuramente in quest'interloccasione specifica anche un'apertura e una disposizione sicuramente più positiva rispetto ad altri colleghi che potevano essere ricondotti alla sfera cattolica. Quindi è importante che ci sia stato questo incontro oggi, che il congresso si svolga ad Arezzo e che questa sia anche l'occasione per dare risonanza e stimolare anche tante altre amministrazioni, tanti altri esperimenti politici a fare iniziativa, ad aderire alle tereghe, a fare iniziative importanti nei propri territori perché insomma non tutt'Arezzo è come il suo capo ruolo. Con questo ci tengo a sottolinearlo e penso che come provincia, come rappresentanti, quelli che sono i sindaci della provincia perché con questo suo nuovo ruolo quest'ente va a rappresentare tutta l'assemblea dei sindaci, è importante che passi questo messaggio. Davvero non la pensiamo tutti in questo modo e ci sforziamo per fare delle iniziative che invece vadano in tutta l'altra direzione, nella direzione dell'integrazione, dell'abbattimento delle discriminazioni e quindi diciamo noi sulle mani dei nostri ragazzi insomma perché a me non fa piacere, io non ho figli, ho una nipotina, a me non fa piacere francamente che le possa essere impedito di parlare di affettività, che le possa essere impedito di parlare di educazione sessuale solamente perché c'è una fobia da parte di una minoranza perché è una sparuta minoranza che però fa tanto rumore. Grazie Grazie